ma ce l'hai con me? e come si può fare? come si può fare che cosa? mi lascia a fare i miei sapi io ti ho lasciato a piedi in mezzo a... perchè teniamo appuntamenti e te co co e quando? come? quando andiamo prima di venire qua? e me? mi lascia a fare la vita e non mi lascia a fare i miei sapi ma sei scemo, non si capisce poi c'è la unica fila che hai no perchè hai ragione no dico hai ragione come se tu lasci un amico aspetta adesso vogliamo sciorinare che mi fa? vogliamo sciorinare te lo vogliamo dire? vogliamo lavare i panni in famiglia? lavare i panni in famiglia vai ah ma ti dico che c'hai da dire forza e parliamone dai vai tranquillo c'è l'appuntamento a me che io vengo per fare la macchina io non voglio essere qua e lascia a fare i miei sapi signore con le lente andate un attimo in discussione per piacere che c'entra la signora? secondo voi è giusto che un amico carnalo come lui deve lasciare insomma un amico carnalo come me a piedi in mezzo alla strada? oi che signora me la traccio? ma no però no 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 stai calmo lui non ha spiegato tutto secondo voi giustamente avete risposto? è giusto aspettare una persona più di sei ore e mezzo alla strada? non ci capi? oi sceso non mi ha detto non mi ha detto ma forse ti sarà ragione perché ti vuole accontentare ma è impossibile aspettare sei ore una persona giusto signora? no 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 signor se mi date ragione è entrata in discussione se mi date ragione è uscita e no mi dà ragione no 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 ma poi dico io sei ore dai sei ore? sei ore? lui non può fare un momento in un momento tardi sei ore e quindi un momento sei ore? cioè ti rendi conto un momento sei ore? oi ma stai qua qua stai? tu per vestiti ci mi spieghi sei ore? no po stai non stai non mangiando molto mi sono andato molto è ma è questo quando ti aspettavo che tu dici fai andare perché non ti aspettavo che hai pensato mi scintavo e pavonei per non c'icare se tu cazano vai da buttare un broco a feghe che ti dici? non è possibile va bene ma lei se ti accostava e ti mi arroba la mente ma che ti mi arroba la mente? vanno fanno un malamento a te ti fanno un malamento? io sono piccini ma qui? io scuso perché perché no? c'è un giro che c'è un giro grazie a te grazie a te grazie a te a te per me basciare tutto a scuro e beh ma devi basciare la curva qua a basciare una vecchia fu su da vaglione che mi guardavo con un musse di questo no aspettavo che capire no 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 capire una vecchia? una vecchia fu su da vaglione che è tic se ne vede tic cioè come fa una vecchia a sevestrare la vaglione? come? sevestrare la vaglione una vecchia perché non mi hai spiegato come è una vecchia fu su da vaglione? allora sembra no 50 e 54 anni no? e beh teneva lo tuppi andato lo tuppi andato no aspettavo non ho capito perché una donna a 50 anni deve dare la tia la vita no non si può truccare e allora? una camicetta tutta scullata e si vedeva tutta la camicetta vabbè lascia sta una donna a 50 anni può anche vestire scullata si però con una miniconna a ca a ca greca a ca e con miniconna è? una miniconna a girocolle come è girocolle? una girocolle una miniconna a girocolle e non ci capito? una donna a 50 anni non può portare una miniconna e poi sveglia 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 chi era? è solo il bombamento ha giocato tutto questo per te per te ha giocato per te è stato proprio un giro genna un giro per il bombamento ripetono è stato un giro è stato un giro è stato un giro per te